Notizia di Prato Tg, a tutti buonasera. Il nido arcobaleno, siamo nella zona di via del Purgatorio, è stato distrutto da un incendio ieri sera. Le cause potrebbero essere accidentali. L'ipotesi più accreditata al momento è quella del cortocircuito. Guardate. È rimasto poco dell'asilo nido arcobaleno devastato ieri sera da un incendio che si è portato via gran parte degli impianti, degli arredi e dei giochi, lasciando pareti e soffitti anneriti e un fortissimo odore acre che si è spinto fuori per qualche centinaia di metri. L'inferno in via arcobaleno, traversa di via del Purgatorio, è scoppiato alle 20.30 quando gli abitanti del palazzo di fronte all'asilo che confina con le scuole Collodi hanno segnalato fumo e fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dal distaccamento di Montemurlo sono arrivate in pochissimo tempo. Rapido lo spegnimento, ma del nido arcobaleno è stato salvato ben poco. La struttura, subito dichiarata inagibile, resterà chiusa per molto tempo. I primi accertamenti dei vigili del fuoco parlano di cause accidentali. Il sostituto procuratore Giampaolo Mocetti ha aperto un'inchiesta e al momento l'ipotesi più accreditata è quella del cortocircuito. L'esterno dell'edificio è rimasto intatto, merito del cappotto termico sistemato recentemente sulle pareti esterne della struttura che sono state rivestite con elementi isolanti. Un investimento in campo energetico, questo fatto recentemente dal comune. Abbiamo iniziato da ieri sera tutta l'analisi sia per scrigiurare la natura dolosa e sia per verificare se la causa è attribuibile ad altri elementi quali impianti che potrebbero essere stati una possibile fonte di innesca. Parlo prevalentemente di impianti elettrici. Riteniamo opportuno per effettuare un'analisi accurata dei luoghi ed evitare ogni alterazione effettuare un sequestro dell'immobile in modo tale che ci garantisca di preservare tutte le condizioni. E l'asilo Nido Arcobaleno resterà chiuso per molto tempo. Non ci sono problemi per le famiglie dei bambini che lo frequentano perché il comune ha già trovato altre sistemazioni. Alessandra Grati. Trovato una collocazione in tempo record per i 54 piccoli iscritti al Nido Arcobaleno, completamente reso inagibile dopo l'incendio che si è sviluppato ieri notte. La bella notizia in tutto questo marasma è che i bimbi sono già stati risistemati, risudivisi in altre scuole, ma soprattutto mantenendo le classi piccolissime tutti insieme, quelli un po' più grandi tutti insieme e così via, con gli stessi educatori. La situazione verrà costantemente monitorata dagli uffici della pubblica istruzione per risolvere con aggiustamenti o modifiche gli aspetti di criticità che dovessero eventualmente emergere nei prossimi giorni. Nello specifico i bambini saranno così distribuiti, 6 al Nido Fiore e al Borgo, 16 al Centro Gioco e Castellare, mentre alla Ludoteca Galilei e al Nido L'Astrolabio saranno ospitati 26 bambini. I tempi per la ristrutturazione dell'immobile recentemente inaugurato sono molto lunghi. La struttura è assolutamente inagibile, lo sarà per un bel po' di tempo perché dentro è completamente da rifare, è veramente un grande dispiacere. Io l'ho fatto sopra il luogo un'oretta fa e oggettivamente fa male il cuore perché era nuovo. Eravamo con i genitori qualche mese fa, un paio di mesi fa a festeggiare la fine dei lavori di ristrutturazione, 360 mila euro di intervento, un bellissimo spazio. È completamente andato distrutto l'interno, l'esterno sembra intatto. Gravissimo incidente stradale intorno alle 13.45 di oggi è successo in via Toscanini a San Paolo, vittima un ragazzo di 16 anni che era in sella ad uno scooter. È stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza e trasferito all'ospedale Fiorentino di Careggi con lesioni alla testa e agli arti inferiori. Il ragazzo stava procedendo in direzione di via Galcianesi e quando si è scontrato con un'auto sarà la polizia municipale intervenuta con le pattuglie dell'ufficio sinistri a ricostruire la dinamica dello scontro. L'auto era condotta da un 21enne, anche lui ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. È terminata alle 18 di oggi l'allerta arancione per vento forte emessa dalla regione toscana fin da stanotte raffiche di Grecale fino a 70-80 km orari. Hanno sferzato Prato e la provincia danni segnalati in particolare ai campi dello Sporting a Mezzana dove è stata divelta la tensostruttura che ha rischiato di finire sulla declassata. Fino alle 19 è stata attiva l'ordinanza del comune che vietava l'accesso a cimiteri, giardini pubblici e impianti sportivi all'aperto o intenso struttura. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di rami caduti o di oggetti pericolanti. Intanto c'è stato anche il risveglio con la neve per gli abitanti di Montepiano, una spolverata ha imbiancato i tetti ma anche l'area del lago Fiorenzo e le strade senza nessun problema però per la circolazione. La cronaca, di nuovo la cronaca, sottoposto all'obbligo di firma, si è presentato in questura ma è stato arrestato. Sentite perché. Lo hanno visto cedere cocaina a una donna, hanno perquisito la casa nella quale vive e hanno trovato e sequestrato più di 3 kg di hashish e quando lui, un marocchino di 36 anni, si è presentato in questura perché sottoposto all'obbligo di firma, lo hanno arrestato. L'uomo, già finito in manette la settimana scorsa per la detenzione di 5 g di cocaina ma subito scarcerato e messo all'obbligo di firma, è finito di nuovo nei guai ieri. Gli agenti della sezione antidroga della questura hanno rinvenuto nella stanza di un appartamento in via San Paolo preso in affitto da un pratese di 80 anni 3 kg e 360 g di hashish. Mentre 110 g di cocaina confezionata in ovuli sono stati sequestrati alla donna, una rumena di 29 anni che li aveva appena ricevuti dal marocchino. Marocchino che indisturbato aveva continuato a spacciare droga nonostante il primo arresto. I poliziotti però lo hanno sempre tenuto sotto controllo e così ieri, quando lui tranquillo alle 19 in punto si è presentato a firmare, ignaro del ritrovamento dello stupefacente nella sua stanza, è stato portato dritto in carcere. Furto ai danni del Gramsci Caens al polo scolastico di Via Reggiana con i ladri che hanno sfondato le finestre per poi portare via sette computer in uso alla scuola. È successo nella notte tra domenica e lunedì, i danni sono ingenti, una prima stima è di circa 10.000 euro tra il valore del materiale trafugato e i danni inferti agli infissi. I ladri hanno utilizzato un tombino per mandare in frantumi tre vetrate sul lato che dà sulla declassata una volta all'interno, poi hanno agito a colpo sicuro riuscendo anche a non far scattare l'allarme muovendosi dove non sono presenti i sensori. Le indagini sono della polizia che ha effettuato un sopralluogo all'interno della scuola. Arriva a Prato il robot, tutto fare per le piste ciclabili. Ecco come funziona. Il servizio è di Alessandra Grati. Presentato il nuovo robot che da giugno pattuglierà il tratto lungo fiume di via Firenze, ma in prospettiva potrà anche chiamare il 118, i vigili del fuoco in caso di bisogno, oppure dare informazioni turistiche che arrivi in città e addirittura aiutare bambini e ipovedenti ad attraversare la strada. Progettato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa, arriverà a Prato prima dell'estate e sarà sottoposto ad un percorso di addestramento da parte dei ricercatori. A dicembre, accompagnato da un collega, diventerà indipendente. Noi partiremo subito a giugno con i primi sperimenti dove sostanzialmente metteremo il robot nel luogo della sperimentazione e gli faremo osservare l'ambiente in cui si muove e gli faremo sì attraverso lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale che esso sia in grado di apprendere alcuni aspetti che saranno tipiche delle funzioni che poi dovrà andare a portare ai cittadini. Per esempio nel discorso della sorveglianza il robot dovrà essere in grado di riconoscere situazioni critiche in cui sono coinvolte le persone. Il progetto, finanziato dalla regione toscana con 60.000 euro, ha un costo complessivo di 90.000 e verrà sperimentato all'interno del progetto Reversibility lungo le sponde del Bisenzio. I cittadini già oggi vedono che c'è un cantiere in via Firenze proprio di Reversibility, in questo momento è in fase di realizzazione tutta la parte edile, quindi la piazza, i sottoservizi eccetera. È in fase di revisione la collocazione proprio dei container che quindi avranno proprio in quel punto due container, uno destinato alle forze dell'ordine con i quali siamo in contatto proprio per attribuire alle forze dell'ordine quel container e un altro invece destinato proprio ad essere la casa tra virgolette dei robottini. Il robot è completamente realizzato con materiale riciclato, parla, interagisce con le persone e ha le sembianze di una donna. Il nome e ulteriori aggiustamenti del look faranno parte della sperimentazione, che si concluderà a dicembre dopo che lo staff lo avrà reso autonomo. Gruppi di autoaiuto per contrastare la ludopatia negli anziani. Eleonora Barbieri. Troppi anziani cadono nella trappola del gioco d'azzardo, disintegrando in poco tempo i risparmi di una vita e la pensione mensile. Per arginare il preoccupante fenomeno, ADA, l'Associazione per i diritti degli anziani, ha ideato un progetto specifico finanziato dalla Regione e in collaborazione con ACUDIPA, associazione italiana per la cura delle dipendenze patologiche. L'idea è quella di creare gruppi di aiuto di consulenza e guida motivazionale, costituendo sportelli gestiti da volontari formati per contrastare il fenomeno della ludopatia negli anziani. La prima provincia dove l'Associazione ADA ha iniziato questo percorso è Prato. Formiamo anziani per aiutare altri anziani che hanno però problematiche di ludopatia. Qualsiasi tipo di pendenza fa male, sia fisicamente sia psicologicamente. Il progetto si propone inoltre anche la messa a punto di modelli di intervento, tali da poter essere trasferiti e utilizzati in altri contesti territoriali. Le ADA potranno divenire centro propulsore anche di altre associazioni che vogliono attivare una rete operativa nel campo del gioco d'azzardo patologico. Le tre fasi avranno la durata di nove mesi e verranno effettuate nelle province di Prato, Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Siena, Arezzo, Pisa e Livorno. Il gioco, come ogni forma di dipendenza, è una patologia molto stigmatizzante. Quindi le persone stanno lontane dai servizi dove ci sono soggetti cronici. Il ruolo di ADA quale può essere? Quello di costruire un avvicinamento delle persone al problema, alla conoscenza del problema, agli strumenti per affrontarlo, per poi rivolgersi, quando serve, e nei casi veramente più gravi, anche a servizi specialistici. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Non ci sono altre notizie. Io mi fermo qui. Grazie a tutti per averci seguito. Arrivederci. Grazie.